Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un volume appena pubblicato da Sismel dal titolo Ars Rivipullensis, Commentum Anonymum in Arte Donati. Edizione critica e commento a cura di Daniela Gallo, che abbiamo il piacere di avere nostra ospite e alla quale io lascio subito la parola perché ci parli di questo volume molto interessante. Prego Daniela, a lei. Innanzitutto grazie dell'invito. Dunque, questo volume, ospitato all'interno della nuova collanaopa della Sismel, dedicata ai testi latini anonimi, offre l'edizio Princeps di un manualetto di grammatica latina composto in Francia alla fine del IX secolo. In particolare si tratta di un commento alla sezione dei Parti Bussorazionis dell'Ars Grammatica di Edeo Donato, che fu maestro di grammatica latina a Roma intorno alla metà del IV secolo. Come è noto, la grammatica di Donato, per la sua brevità e concisione, fu ben presto affiancata nell'insegnamento del latino da commenti che spiegavano e illustravano con esempi le regolette da lui esposte, e il primo, quello di Serbio, celebre soprattutto per il commento alle opere di Virgilio. Il problema dell'insegnamento della grammatica latina tra la fine della tarda antichità e l'inizio del Medioevo si pose in particolar modo in Britannia e in Irlanda. Infatti la prima era uscita dal controllo dell'impero romano nel V secolo e la seconda era rimasta pure dai confini di quest'ultimo e pertanto entrambe non avevano il latino come lingua madre. La conversione al cristianesimo iniziata nel VI secolo comportò dunque la necessità dello studio del latino da parte di persone di lingua celtica e germanica al fine della comprensione dei sacri scrittori. Per il monaco cristiano, infatti, studiare significava prima di tutto apprendere il latino e quindi la grammatica in quanto strumento di base per la lettura sacra. La grammatica di Donato a disposizione ad epoca poneva dunque dei problemi. Essa infatti si occupava dell'analisi scientifica della lingua e forneva un'introduzione strutturata su concetti di base quali le parti del discorso e le loro proprietà, ma non offriva un quadro esaustivo della morfologia aggressiva, vale a dire di declinazioni e coniugazioni di cui c'era invece bisogno. I maestri alto medievali, pertanto, cominciarono a fare dei tentativi. La prima forma di sperimentazione fu rielaborare l'ars minor di Donato, la cui forma catechistica per interrogazione mentre esponsione era considerata molto efficace ai fini dell'apprendimento e si operò una sorta di cristianizzazione della grammatica sostituendo esempi cristiani a quelli pagani di Donato. L'altra sperimentazione fu affiancare al testo di Donato un altro manualetto, l'istituzio denominate pronominate verbo di Cusciano, che era stato maestro di latino a Costantinopoli tra la fine del V e gli inizi del VI secolo e che aveva già dovuto affrontare il problema di insegnamento del latino a persone che non avevano questa come lingua madre. Infatti a Costantinopoli si parlava in greco. Questa combinazione di elementi grammaticali avvenuta nel corso del VII secolo in ambienti insulare ebbe come risultato la nascita da una parte delle grammatiche elementari, esposizioni sintetiche in cui lo studio della morfologia era in primo piano e dall'altra delle grammatiche eseggetiche, basate spesso su l'ars minor che fornivano i mezzi necessari per la comprensione dei testi in latino. Le grammatiche eseggetiche, inoltre ben presto, cominciarono a basarsi anche sull'ars grammatica di Cusciano, riscoperta proprio dei dotti insulari. L'alleanza tra i monaci benedettini insulari e i sovrani franchi nel VIII secolo poi ebbe per oggetto sia la missione dell'alfabetizzazione dei cristiani, sia l'estensione del controllo franco sulla Germania. I contatti tra le isole del continente e quindi l'emigrazione degli insulari nel Regnum Francorum si intensificarono a partire dalla fine dell'VIII secolo e soprattutto nella metà del IX, quando l'Inghilterra e l'Irlanda furono sconvolte dalle incursioni dei vichinghi. Questo comportò anche il trasferimento di maestri insulari in Francia, che presero il nome di Scotti Peregrini, Clemente Scoto, Muore, Tac, Sedurio Scoto, per fare qualche nome, alcuni dei quali avrebbero rivestito un ruolo previnente negli studi grammaticali e avrebbero rappresentato dei modelli importanti per i grammatici attivi sul territorio franco. Del resto proprio Carlo Magno, rispirato da un dottor insulare, Alcuno di York, per le sue riforme culturali, che dettero grande impulso allo studio della grammatica, che, ripetiamolo, era fondamentale tra l'altro per la lettura e la comprensione della Bibbia e delle sacre scritture. Alcuno, infatti, sosteneva che la grammatica fosse Iano Arsium, in quanto propedeutica a le altre arti liberali. Nel contesto, quindi, dell'insegnamento del datino di Etaccaro-Din, già appena descritto, si colloca la composizione dell'opera intitolata Ars Rivipullensis. Essa si occupa delle otto parti del discorso, a ciascuna delle quali è dedicato un capitolo, e poi delle mosse dell'Ars Minor di Donato, di cui riproduce l'impostazione testuale. Si tratta, infatti, di un'esposizione per interrogazione metteresponsionem, intesa come un continuo dialogo tra Diovo, che pone le domande, e il maestro che risponde, mettendo a disposizione le proprie conoscenze, in linea con le core e le pratiche di insegnamento. Tuttavia, a parte questo espediente didattico e il carattere sintetico del testo, che possono far aprire l'opera come un semplice commento all'Ars Minor, il trattato affronta anche alcuni argomenti esposti da Donato nei libri di D'Ars Major. Nell'atto medioevo, infatti, considerato che entrambe si basavano sulla trattazione delle parti del discorso, il libro 2 della Major iniziò a competere con la Minor, considerata che apportimentare, e questo specialmente durante la cosiddetta Renovatio Studiorum Carolinja, quando l'innalzamento del livello culturale determinò un cambiamento a livello pedagogico. Da un punto di vista strutturale, l'Ars Major di Pullensis si configura come un patchwork che mette insieme excerpt a tratti da autori diversi, nei confronti dei quali l'anonimo mostre di avere un see source and paste approach. Infatti, il carattere del maestro si rivela meccanico e personale e il suo testo finisce con l'essere una compilazione basata sul copia e incolla delle opere degli artigrafi precedenti, di cui viene riproposta la lutta in a grammaticale. È probabile che l'intenzione dell'autore fosse quella di comporre un manuale scolastico ad uso personale. Questo spiegherebbe la scarsa diffusione del testo e da sua pressoché inesistente fortuna. L'Ars Ripollensis è tarita infatti da due testimoni, il manoscritto Barsedona Archivo della Corona di Aragona Ripoll 46, da cui il nome Ripollensis dell'Ars, prodotto nella prima metà del X secolo nella Abbazia di Santa Maria di Ripoll in Catalogna, e il manoscritto Vaticano Latino 3318, prodotto forse nella Francia meridionale nella seconda metà del X secolo, che tuttavia trasmette il testo in maniera incompleta a causa della caduta di alcuni fogli. Entrambi i codici appartengono a quel gruppo di miscellane grammaticali in cui un posto centrale è occupato da Dars Grammatica di Donato, che viene affiancata da una serie di altri testi complementari, commenti o l'opusco di che siano, a sua integrazione e perfezionamento. Si tratta certamente di strumenti elaborati da maestri di scuola con finalità didattiche ben precise. Le due raccolte infatti sono caratterizzate da una prima sezione costruita sullo studio delle parti su Razzionis e sulle regole di flessione, è impergnata sull'Ars minor di Donato, e da una seconda parte che invece si concentra sullo studio degli elementi di base della parola e sulle questioni prosodiche, nonché sulla riflessione e su vizio e virtù del discorso, che ruota invece intorno all'Ars Major. L'impostazione pedagogica e contenutistica dei due urbano scritti, che possiedono alcuni appendici in comune, costituisce senza dubbio un indizio della loro profonda affinità. Tuttavia, per ciò che attiene più specificamente al testo dei Darser e dei Ripollensis, essi non dipendono l'uno dall'altro. Dalla collazione è emerso infatti che il manoscritto di Ripoll non può essere l'antigrafo del Vaticano, solo a base di una serie di errori, presenti nel primo ma non nel secondo, non corregibili di percongettura. Inoltre, il testo dell'opera ha subito alcune corruzioni già nella fase più antica di Da Sole Rasmissione. Esso infatti, nella veste in cui c'è apprevenuto, mostra numerosi fraintendimenti nella trascrizione, che appare poco consapevole, semplificazioni o omissioni, e proprio questi che sono condivisti da entrambi i testimoni e che dimostrano che essi discendono da un archetipo corrotto che rappresentava solo una copia dell'originale. È possibile quindi supporre che i due testimoni abbiano avuto un antigrafo in comune, che avrebbe prodotto prima R a Ripoll e poi giunto in Francia a V, e che avrebbe tramandato, oltre che l'Ars a Ripollensis, anche i vari trattateli grammaticali condivisi dai due codici. Sebbene l'opera di Donato sia il punto di partenza per la redazione del DAS di Ripoll, questa mostra di avere una struttura prevalentemente compilatoria. Infatti l'autore ha avuto senza altra disposizione e ha utilizzato ampiamente anche altri testi grammaticali che sono stati citati alla lettera o con delle leggere modifiche. Dall'analisi delle fonti emerge che l'Ars grammatica di Prisciano è l'opera più sfruttata dal commentatore, che invoca sovente l'autorità del grammatico di Costantinopoli, pur nominandolo esplicitamente solo poche volte. Del resto l'impiego dell'opera priscanea all'interno del contesto della didattica del latino è un tratto caratteristico delle grammatiche di Etaccaro-Dinja. Per quanto riguarda invece i grammatici contemporanei all'anonimo, hanno ricoperto un ruolo importante per la composizione dell'Ars, Smaragdo di Samiel, Seduvio Scoto e soprattutto Repito di Oxer, di cui si è cercato di evidenziare le affinità testuali con specifici rami della tradizione. L'analisi del testo dell'opera e lo studio dei rapporti con i commenti dei predecessori hanno permesso di formulare importanti ipotesi a proposito dell'epoca e del luogo della sua composizione. Come detto all'inizio, l'Ars Revi Pullensis è stata scritta probabilmente verso la fine del IX secolo. Sostengono questa dotazione alcuni elementi interni ed esterni al testo. Il primo si trova nel capitolo Denomine, dove a proposito del nome proprio e dei quattro nomina in cui esso è diviso, l'anonimo mostra l'esempio Imperator Carolus Francus Prudens. Lo stesso esempio si legge nei liberi impartibus donati di Smaragdo, che rappresenta la fonte dell'anonimo per l'intera trattazione sui nomi comuni e sui nomi propri. In Smaragdo, che ha composto il proprio commento nel primo decennio del IX secolo, il riferimento è senza dubbio a Carlo Magno e la data viene dunque a costituire un primo terminus post-quem per la notazione dell'Ars. Il secondo elemento, che permette di spostare più avanti la data di stesura di quest'ultima, è rappresentato dalla conoscenza da parte dell'anonimo maestro dei commenti addonato di Sedulio e di Remigio, composti nella seconda metà del monosecolo. La trattazione del manoscritto di Barcedona, prima metà del X secolo, rappresenta invece il termine San Tequem. Per quanto riguarda il luogo di redazione del testo, è ipotizzato che esso sia da vedersi in Francia. Ancora nel capitolo denomine, nella parte dedicata ai nomini a patrie, la fonte Smaragdo menziona a Roma Romanus, a Spagna Spanus, a Troia Troianus, mentre l'anonimo mantiene Romanus e Spanus, ma sostituisce Troianus con un più logico Francus, quindi scrive a Francia Francus. Il maestro infatti potrebbe aver deciso di dare un'impronta personale al suo testo, inserendo tra gli esempi il proprio etnonimo o quello del popolo presso il quale risiedeva all'epoca della redazione dell'opera. A questo va aggiunto che la maggior parte dei testi di cui l'anonimo si è servito per la composizione del suo manuale ha avuto una circolazione limitata per lo più alla Francia o in ogni caso legata primariamente a questo territorio. Ciò permette di ipotizzare l'origine francese del trattato, contrariamente a quanto sostenuto finora dagli studiosi, che collocavano invece la redazione del testo nell'Italia settentrionale sulla base della presenza nel capitolo di adverbio di nomi di città italiane quali Milano, Pavia, Piacenza e Todi. Ciò a mio avviso non basta per sostenere un'origine italiana dell'opera, nel momento che è possibile spiegare la presenza di città italiane nel testo ipotizzando o una conoscenza diretta o indiretta di esse da parte dell'autore, che dovendo spiegare la costruzione dei complementi di luogo con i nomi di città di prima, seconda e terza declinazioni inserisce quelli o una sua origine italiana. Del resto, l'analisi delle fonti ha dimostrato che per la stesura della parte relativa agli avverbi di luogo, l'anonimo ha avuto a disposizione un codice appartenente alla famiglia X della tradizione del commento di reviso Lars Minor. Infatti, le stesse città di Milano e Pavia si riscontano nel manoscritto dell'Anno 259, redatto a Fleury nel X secolo, e inoltre lo stesso testo si risconta nel manoscritto Juan 1377, composto da Jumiege nel IX secolo, che presenta un dialogo tra una di per un maestro a proposito degli avverbi di luogo, nel quale è citato una serie di nomi di cittadiani, tra i quali figurano proprio Milano, Pavia e Todi. Se un'origine francese quindi per il trattato appare molto più abbabile, più difficile, è stato tentare di identificare il centro dove esso è stato composto. Le ipotesi che ho formulato si possono riassumere in cinque punti. Primo, all'inizio del trattato è presente un accesso saddonato che viene generalmente indicato con le prime parole del testo, donato sartighefus tempore comprenditur, che si legge come incipit di un commento a Lars Minor in altri tre manoscritti altomedievali, provenienti con certezze da Fleury sulluar. Secondo, Lars Revy Pullensis mostra affinità testuali con alcuni dei testimoni di Smaragd e di Remigio provenienti da Fleury. Terzo, l'analisi dell'opera ha poi dimostrato la conoscenza da parte dell'anonimo dell'Ars Bernensis, tradita dal nomoscritto Bern 123, databile dalla metà del nono secolo e originario di Fleury. Questo testo, per di più, ricorre sotto forma di scuole marginali anche nel manoscritto Ripple 46, per cui è possibile che fosse a disposizione del maestro, che potrebbe essersi servito l'identighefo del manoscritto di Berna, e che, insieme a Lars Revy Pullensis, sia stato trasportato in Catalogna all'interno del codice da cui dipende il testimone di Ripple. Quarto, da un punto di vista più strettamente testuale, l'Ars Donati, tradita da due testimoni, mostra l'incontro tra la cosiddetta recenza visigotica ed azioni di tipo insulare, di cui è testimone anche al manoscritto Bern 207, prodotto tra la fine dell'ottavo e gli inizi del nuovo secolo a Fleury, estrettamente legato all'attività pedagogica degli irlandesi sul continente. La presenza in tale codice di relazioni tra il testo ispanico di Donato e Polio Insulare dimostra come nel IX secolo questo tipo di recensione mista fosse presente nella Francia centrale e come proprio Fleury sia stato uno dei luoghi di incontro tra queste due tradizioni. Quinto, è importante a questo punto sottolineare che i rapporti di scambi tra le due abazie di Fleury e di Ripple sono effettivamente attestati, così come pure le relazioni tra Fleury e altri scrittori francesi quali Tour, Rems e soprattutto Xer, dove del resto erano stati attivi Murtac e Remigio. Inoltre, a proposito dei rapporti tra la Francia centrosittentrionale e la marca ispanica, occorre ricordare che il manoscritto di Boc 46 è il testimone più antico dell'Ars grammatica di Usuardo, monaco di San Germain de Pre, che sarebbe stata trasportata in Catalogna in occasione del viaggio in Spagna dell'autore tra l'857 ed l'858. All'epoca l'Ars rivipullensis non era stata ancora composta e quindi non può essere giunta in Spagna in quella circostanza, ma il caso dell'opera di Usuardo è un esempio di quanto può essere accaduto con il commento dell'Anonimo. Ciò può essere anche legato agli avvenimenti storici dell'epoca, infatti la base di Fleury è stata distrutta in più occasioni durante le recensioni vichinghe e i codici prodotti sono andati perduti o distrutti o sono stati portati via dai monaci. È possibile quindi che il codice dell'Anonimo, o comunque il più antico testimone dei Dars e Rivipullensis, sia andato perduto in queste circostanze. Considerati i rapporti appena menzionati tra Fleury e Ripoll all'epoca, è altresì possibile che un monaco l'abbia condotto con sé in Spagna, dove avrebbe dato origine all'archetipo da cui discendono i testimoni giunti sino a noi. Entrambi sarebbero poi andati perduti per le vicissitudini comuni ai codici grammaticali che, in quanto libri di uso frequente, erano destinati a deteriorarsi e quindi ad essere smembrati per essere riutilizzati, per esempio, come carte di guardia. Va ricordato infine che Fleury è stato un renomato centro intellettuale dotato di una scuola monastica a partire dalla fine dell'VIII secolo, in cui gli studi di grammatica hanno avuto un ruolo importante e senza dubbio aveva avuto parte attiva nella pratica di scambio di libri tipica dell'Alto Medioevo. Dunque, anche se Dars e Rivipullensis appare come uno dei tanti commenti addonati di Takkarodinja e se l'Anonimo non apporta alcuna nuova riflessione a livello dottrinale, tuttavia, essa rappresenta in ogni caso una testimonianza dei numerosi stimoli che potevano nascere attorno a un testo schematico e conciso, quale Lars di Donato, e si inserisce, cosa importante, nel solco della tradizione grammaticale e desegetica di Remiglio di Oxervo, di cui rappresenta uno dei primi redi, che tanta fortuna avrà fino all'umanesimo e a me particolarmente cara. È bella complessa questa ricostruzione, non è una cosa per tutti. Sì, no, dietro allo studio del testo c'è stata una profonda indagine su appunto dei fonti che erano a disposizione del maestro, i testi che potevano essersi trovati nella sua biblioteca, dove si trovava la biblioteca di questo maestro, dove poteva trovarsi, insomma, tutta una serie di ipotesi che restano ipotesi, però insomma sono abbastanza plausibili. dimostrano anche una circolazione di queste opere che erano finalizzate alla diffusione del latino in ambito ecclesiastico soprattutto, principalmente, no? Sì, molto. Eh beh, interessante, quindi consigliamo l'acquisto di questo volume, perché il modo migliore per poterlo assorbire è quello di leggerlo. Sì, sperando che sia una lettura piacevole e utile. Utile sicuramente, piacevole probabilmente. Bisogna immergersi con grande volontà di comprendere. Io la ringrazio tantissimo per questa presentazione. Grazie a te. E ricordo a tutti i nostri utenti di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove insieme a questa videopresentazione troverete tutte quelle realizzate fino ad ora. Grazie ancora e alla prossima. Buona giornata. Grazie a tutti.